Salve a tutti ragazzi sono sempre Iomans benvenuti in questo nuovo video su FIFA siamo ritornati su FIFA Ultimate Team riprenderemo più avanti il Road to Division 1 ma oggi come avete letto dal titolo iniziamo una nuova serie su foot vi spiego brevemente come funziona questa serie io vado a prendere dei giovani giocatori che secondo me potrebbero diventare dei talenti magari in futuro li metto in campo, gli faccio una squadra alle spalle e giocheremo tre partite online se in queste tre partite il calciatore in questione riesce a fare tre o più di tre gol per quanto mi riguarda diventa una giovane promessa, di sicuro successo se questo giocatore purtroppo fa meno di tre gol purtroppo viene scartato e non viene visto come un possibile talento se con i prossimi talenti raggiungiamo anche i cinque gol diventerà una futura leggenda spero di essermi spiegato bene ma comunque si vedrà durante il video come funziona mi raccomando ragazzi sostenete la serie, lasciate un mi piace, un commento cerchiamo di arrivare a 150 mi piace per questo primo episodio, mi piacerebbe veramente veramente molto come primo episodio oggi andiamo a vedere Ricciairo, credo si lega così, Ricciairo Zivkovic giovanissimo attaccante dell'Ajax olandese che mi ricorda veramente tantissimo Van Persi come modo di giocare e come si muove Zivkovic è un pochino più alto, 1 metro e 87 mentre Van Persi sta sull'1 metro e 83 piede debole 4 stelle, mossa abilità 3 stelle abbiamo 79 di velocità, 67 di dribble, 72 di tiro, 30 difese, 55 passaggio, 56 fisico e un overall di 69 non è altissimo ma guardate i dati, ha giocato 4 partite sul mio club e ha fatto 7 gol abbastanza buono, speriamo che Zivkovic diventi un nuovo talento, una giovane promessa questa è la squadra che gli ha costruito attorno davvero molto buona e partiamo subito ragazzi vediamo chi è il nostro primo avversario per far segnare boom il nostro Van Persi Argento e diciamo che non è andata proprio benissimo forza Zivkovic, non avere paura crediamo in te e vai Zivkovic, e vai da solo guardate è velocissimo attenzione Zivkovic il tiro di Zivkovic, leno oddio Zivkovic è fortissimo una bestia, l'avete visto? la progressione attenzione ancora Zivkovic, il tiro Zivkovic è fuori di testa ragazzi 69 di overall eccolo Zivkovic può andare vede Memphis Depay si ripropone Zivkovic attenzione 1-1 contro 1 contro leno il tiro da fuori Zivkovic me lo son mangiato questo me lo son mangiato questo me lo son mangiato te lo meriti Zivko te lo meriti scusa io Manderviel la mette in mezzo per Martin Shindy c'è Zivkovic da fuori non va attenzione ancora la palla lì ancora Zivkovic leno madonna ragazzi attenzione a Zivko può andare ancora lui Zivkovic il tiro Zivkovic 1-0 questo è un fenomeno signori questo è un fenomeno questo è veramente una giovane promessa 1-0 primo gol per Zivkovic dobbiamo arrivare a 3 ricordatevelo ma questo è veramente forte attenzione Depay pallino d'ora per Zivkovic guardate di fisico Zivkovic un fisico bestiale ragazzi alto 1,87m se non sbaglio blind ancora per Zivkovic vada fuori attenzione Zivko il tiro di mancino fa fallo probabilmente un segone pazzesco col mancino va bene Zivko va benissimo no attenzione Romos esce Sile Siles un fenomeno Silesen un fenomeno una bestia l'ho usato 20 volte non aveva mai parato guardate Zivkovic mamma mia ragazzi e adesso si ripropone e adesso si ripropone Zivko dove sei dove sei Zivkovic dove sei eccolo il filtrante il tiro a giro di yeah scusate mi sono fatto prendere tecnicamente vorrei segnare solo con Zivkovic attenzione sbaglia tutto Zivkovic un animale da aria di rigore è sempre sul pezzo come voi ragazzi sempre sul pezzo due gol per Zivkovic ragazzi e siamo solo alla prima partita attenzione a Zivkovic che ruba palla prova di fisico contro Benatia la finta di Zivko c'è ancora il palla lui prova una skill Zivkovic il tiro di Mancino Leno deve fare il miracolo perché Zivkovic aveva skillato con tre stelle skill finisce qui il primo tempo Zivkovic protagonista assoluto doppietta per lui ci avviciniamo alla giovane promessa Zivkovic da fuori oddio ho provato a tirare perché avevo visto Leno fuori dalla porta Martisindi vede Zivkovic da solo forse è fuori gioco non è fuori gioco prova a tirare da una posizione impossibile c'è Depay Botius 3-0 magari ragazzi scrivetemi nei commenti io non ci avevo pensato prima se magari in queste sfide far segnare solamente Zivkovic però non lo so ditemi voi cosa ne pensate o far segnare ovviamente solo il giovane talento in questione in questo caso appunto Zivkovic vai blind fai andare why not oh madonna che fallo c'era c'era il buco libero per Zivkovic davanti al portiere sarebbe stato oddio faccio tirare faccio tirare Zivko no troppo lontano faccio tirare Zivko eccolo eccolo ecco ecco ma è Zivko non lo so non lo so non lo so attenzione a Zivko fuori aria il tiro di Zivkovic oddio traversa traversa è una traversa incredibile ormai ne abbiamo la sicurezza ma abbiamo bisogno solo dei tre gol di Zivkovic per capire per sapere se ha veramente attenzione il portiere sbaglia tutto eccolo eccolo il terzo gol di Zivkovic terzo gol per lui giovane talento adesso ne abbiamo la conferma assoluta dopo la prima partita si ha già fatto i tre gol e adesso andiamo verso la leggenda futura e il primo giovane talento è andato ragazzi ne scopriremo tantissime assieme ne ho già in cantiere un bel po' vai Zivko di mancino non ci credo che tre cosa madonna non ci posso credere assolutamente consigliato poi con la squadra che vi ho fatta attorno è perfetto finisce qui il primo match ne mancano solo due ma Zivkovic è già diventato una giovane promessa tre gol per lui dobbiamo arrivare a cinque almeno per farlo diventare leggenda penso che dovrò in questa serie di giovane talenti far segnare solamente il giovane talento in questione perché è giusto così cioè noi giochiamo per lui e quindi deve sognare solamente lui durante quella partita quindi adesso andrà avanti così ma noi i tre gol con Zivkovic ce l'abbiamo già fatti perché è una cosa che ho deciso in seguito attenzione una tedesca baggatissima una tedesca baggatissima è andato coglione che gol ti sei cagato manco d'arculo ti sta bene oh palla 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 piena guarda te me lo butta anche fuori zio porcone panettone ah ecco herman e la madonna dove la tira importa sti cazzi bravo lui Zivko tira la sabongia madonna vede il feller che fa una parata del genere tutto per non fargli far gol qui aveva tirato una slegnata bestiale vabbè qui siamo di un difensore ormai cos'è non mi importa ne ho fatto ne ho un gol alti questa partita così la prossima così la prossima così la prossima è solo una cazzo leggenda oh peccato peccato non li so nemmeno dove fare non so ne fare i cambi sicuramente vai Zivko sei da solo davanti avanti denfeller ecco nel tuo quarto gol Zivkovic meno uno dalla leggenda forza cazzo ce l'hai fatta ce l'hai fatta 3 a 1 riapriamo tutto riapriamo finisce qui la partita persa 4 a 1 ma almeno ha segnato Zivkovic siamo a meno un gol dal farlo diventare leggenda e la prossima partita è decisiva oddio palla e mezzo per Zivkovic che si mangia un gol pazzesco di testa oddio ancora il pallone oh mamma beata non ci capivo un cazzo non ci capivo più niente ma Zivkovic si ha mangiato un gol di testa pazzesco però avete visto che è incornata è stato bravo Perin eh Zivkovic in che cazzo io se ne so pregare infatti io buono fangio le uscite dei partiti sono qualcosa che va ormai ho sistemato che andavo sistemato ve lo voglio farvi vedere guarda Zivkovic si ciao ma voti da l'ero via oh tutti che salvavano le punizioni mannaggia la grandissima puttana 3-0 dopo 20 minuti ma con una difesa così non si può aspettare niente di che dato che Itinga e l'altro coglione sono sono lenti come due paracardi quindi vai Memphis aspetta che arriva Zivko aspetta Zivkovic aspettalo e Zivkovic diventa leggenda 5 gol per lui 3-1 e Zivkovic diventa leggenda il primo giovane talento che proviamo in questa nuova serie diventa leggenda con una faccia bruttissima tra l'altro sembrava il joker ma grazie a una scampagnata pazzesca di Memphis Depay Zivkovic diventa leggenda perché è sempre lì sempre lì sul pezzo grande Zivko hai dimostrato di valere molto di più delle tue caratteristiche tecniche 69 di overall sono un po' strettine poi magari in realtà io sei una merda che cazzo ne so mi sono tirato il joystick sui coglioni oddio se ne va con una skill Zivkovic 3-2 la rimette in piedi 6 gol per lui e qui non so cosa diventa perché c'è dopo la leggenda dopo il talento leggenda non so più cosa farlo diventare ma 6 gol per lui va oltre questo diventa proprio un fenomeno bestiale che palla del Zivkovic per Depay che se potesse segnare lo farebbe attenzione la palla torna dietro per oddio che gol ha fatto Zivkovic 7 gol per lui un'azione con Memphis Depay fuori di testa da che roba da che roba boom sotto al 7 Zivkovic così molto tranquillamente molto tranquillo easy tutto facile per lui 7 gol signori il primo video dei talenti su FIFA Ultimate Team finisce qui direi che è andato abbastanza bene Zivkovic è diventato addirittura una leggenda superando il numero di gol che doveva fare mi raccomando sotto nei commenti datemi dei consigli su magari nuovi giovani talenti da provare io li proverò questo era solo il primo video di una lunga serie che spero vi piaccia quindi mi raccomando lasciato un mi piace un commento un consiglio e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti ragazzi